Terribile perché in questo paese non succede mai niente di niente, tutti sono un po' sconvolti. È una comunità sotto shock quella di Pozzo della Chiana, la piccola frazione di Fogliano dove ieri pomeriggio in un appartamento un uomo ha aggredito la moglie colpendola almeno tre volte alla testa con un martello. Per noi era una famiglia del mulino bianco. La donna fortunatamente è riuscita a salvarsi scappando di casa e chiedendo aiuto ai vicini che hanno immediatamente chiamato i numeri dell'emergenza. All'arrivo dei carabinieri la donna, 48enne, cassiera in un supermercato a Bettolle, perdeva molto sangue e da alcune ferite alla testa. È stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Siena, è sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Tutti dicono che era tranquillo, veniva anche qui, tranquilli, si vede che non erano poi così. Il marito, 53enne, invece è rimasto a lungo sotto shock e per questo è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio. Adesso si trova nel carcere aretino di San Benedetto. L'udienza di convalida dovrà essere svolta nei prossimi giorni, stiamo aspettando le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Al momento dell'aggressione, oltre ai due coniugi, nessun era presente nell'abitazione, la coppia, due figli, entrambi maggiorenni. I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire contorni all'interno dei quali si è scatenata la violenta aggressione che sarebbe esplosa al culmine di una lite. Sotto la guida e la direzione della procura aretina stiamo svolgendo tutte le indagini per non tralasciare alcun particolare. Cercare di capire cos'è accaduto ieri dentro quella casa? Soprattutto sì, qual è il movente di questa brutta situazione. Grazie. Grazie.